È finito un sogno? È finito il più bel mestiere del mondo? Forse sì. Forse è finito perché oramai gli articoli vengono compilati dal governo, vengono compilati dal Copazir, vengono compilati dai suggerimenti dei servizi segreti. È finito perché ci sono agenti dei servizi segreti, funzionari che tengono per le palle i giornalisti. Ci sono giornalisti che si fanno tenere per le palle, non c'è più distinzione di ruoli. È finito perché a tanti colleghi più che la notizia interessa la carriera altrove. È finito perché tanti direttori più che curare i giornali curano la propria appartenenza a questa o a quella lobby. è finito perché agli editori non interessa più dei contenuti, interessa usare i giornali per qualcos'altro, per fare un partito, per avere vantaggi fiscali, per fare delle transazioni economiche. È finito anche perché tanti giovani colleghi vengono pagati 50 centesimi ad articolo. e come fanno a campare e come fa a campare il più bel lavoro del mondo. È finito perché forse hanno voluto farlo finire.